Buonasera, sto passando una notte in un supermercato a dormire in auto Passo una notte intera a dormire in auto vicino al supermercato, ho deciso Questo è il supermercato come potete ben vedere Qua la zona adesso in questo momento non passa nessuno Là c'è un benzinaio, ha piovuto e non c'è nessuno in giro Questa è la mia macchina Ok, non c'è proprio nessuno, vediamo cosa succederà Ok, passa un'auto, sto passando un'auto, non è dei carabinieri per fortuna Allora, situazione attuale, sono le 3 e un quarto di notte circa Fuori non passa nessuno, sono vicino a un supermercato in questo esatto momento E passerò fino all'alba, queste ore qui in auto, fino all'alba Per adesso ho scelto un luogo abbastanza sicuro, ovvero ho scelto un posto vicino al supermercato Dove dormire, passare la notte intera in auto Però da qua non c'è niente di importante in auto, sono solo io con la giacca C'è uno zainetto con dentro fazzoletti e altro Vediamo come andrà a finire questa situazione Speriamo soltanto che non passa qualcuno di strano Perché altrimenti io non posso muovermi da qua E quindi spero che soltanto non succeda nulla Come potete ben vedere qua c'è il mio zainetto Qui c'è un po' di roba e basta Dietro non c'è niente, non c'è nulla Di là, vabbè c'è il supermercato, quello è un supermercato chiuso E basta Ma che deserto, ah no c'è un'auto Oddio chi sono? Dove va? Di qua, ok No, oh cazzo Oh cazzo, dove cazzo va? No 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 no, non venirti qua per favore Quello è un furgone quello Quello è un furgone, dove cavolo va? Ah è andato dritto Non vuole Non vuole, è tre e mezza di notte Situazione attuale, sono stanco Sono qua da un'ora e mezza circa Sono passate un paio di auto Nulla di spaventoso, nulla di strano Per ora ancora nulla E mi guardo un po' intorno Lascio una cosa che lampeggia Non so cos'è Vabbè E per ora nulla di strano Per ora Vi aggiornerò fino all'alba Mamma raga è proprio deserta Il mio paesino è proprio deserto Mamma mia ragazzi, fa paura Cioè vabbè meno male che sono qua Che c'è luce perché In altri posti non lo so Mamma mia Se non posso Una prossima volta è un posto abbandonato Proprio peggio Proprio al buio Un posto al buio ancora più spaventoso Ragazzi Quando sorge il sole Deve sorgere il sole Sole Io posso vedere anche da qua Se ci sono dei movimenti strani Ok Oh oh Ok Oddio Non venite mai Vai di qua Ok non venite mai No Venite di qua Non venite qua per favore Io non so chi sono Non posso sapere chi sono Non girare di qua che vengo Ok no Però male Questo dove va? Questo dove va? Ho girato di là Sì Comunque ora ragazzi È giorno Non è successo nulla Per fortuna È tutto ok C'ho lo zaino C'ho la macchina C'ho tutto Non è successo niente Per fortuna Ed è alba E ho sonno Grazie per aver visto questo video Ci vediamo prossimamente In un prossimo video Ciao